L'anticipazione del resto del Carlino è forte e suffragata da buoni argomenti. Lorenzo Pizza sarebbe pronto a diventare il nuovo socio di maggioranza del consorzio Pesaro Basket. Proprio lui, il presidente dell'azienda Italservice e dell'omonima squadra di calcio a 5, dallo stesso trascinata dalla Serie A2 a due scudetti e ai più prestigiosi palcoscenici internazionali, è pronto a diventare il maggior detentore delle quote del basket pesarese. Insomma, una sorta di coproprietario della società assieme allo stesso consorzio. Sarebbe un'altra novità con la N maiuscola in un momento di trasversale rinnovamento a pochi giorni dal passaggio di testimone della presidenza del consorzio da Luciano Amadori a Franco Arceci. Lorenzo Pizza di quei consorzi aveva già fatto parte, così come del CDA, per poi uscirne. Ora sembra sul punto di rientrare, ma con un ruolo di primatore. La nuova presidenza Arceci e il mantenimento di Amadori in squadra paiono due tasselli graditi per pensare ad una cessione di quote sulla quale non ci sono conferme ufficiali da parte dell'AVL, ma serpeggiano già voci circa un accordo di massima che ricongiungerebbe Pizza con la passione giovanile per il basket in un progetto in linea alle sue ambizioni.